Siamo con Mauro Strata che è un dirigente di conferenata della Spezia, anche vicepresidente del Comforte al Consorzio Fidi per il Cretto. Ma la prima domanda è qual è il significato di essere oggi in piazza per un imprenditore? Ma per un imprenditore essere in piazza oggi vuol dire portare in piazza le proteste alimentate ovviamente con l'iniziativa dei sindacati che finalmente vediamo tutti uniti e questa io credo che sia una giornata storica e le imprese che hanno risposto alla chiamata perché credo che nel passato non si sia mai verificato. Vuol dire che siamo proprio in una fase di insopportazione da parte delle imprese e credo che le parole poi non servino, basta dare un'occhiata alla piazza si capisce tutto. Uno degli elementi centrali chiamati è il Cretto, le banche, il rapporto con le banche. Com'è oggi il Cretto in Liguria? Ma il Cretto in Liguria purtroppo è penoso, io uso questo termine per far capire che punto siamo col credito. Mi auguro soltanto che ci sia sensibilità dagli istituti e soprattutto chi deve mettere risorse nei confidi che è l'unico strumento, è sempre stato, ma in questo momento è l'unico strumento che può sostenere veramente le imprese. Bene, grazie. 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 Grazie.